io capisco che quando le piante hanno una emotività vicino delle onde di emozione rispondono figuriamoci con la musica questo è un territorio magnifico siamo a montalcino siamo in un podere antico che ha quasi mille anni e si chiama paradiso di frassina sono capitato in questo posto perché era magico prima perché facevano il vino mille anni fa secondo perché ha una sua particolarità un perdersi di colline e non c'è nessuna bruttura c'è solo arte cultura un mixer di paesaggio il vissuto è un posto bellissimo unico al mondo non per niente è patrimonio dell'umanità la val d'orcia dove c'è molto alcino io sono venuto qui alla fine degli anni 90 e ho capito che in questo posto si poteva fare qualcosa di fuori dall'ordinario ossia mettere la musica io ho avuto questa illuminazione se gli orientali che sono i migliori osservatori della natura hanno detto che la musica e le frequenze sonore possono aiutare la natura a crescere meglio io voglio seguirli non so cosa sarà io facevo l'avvocato però mi piaceva capire cosa avrebbe potuto succedere con le onde sonore e la vigna che mi apprestavo a fare vigna di brunello il vino migliore del mondo cosa succede succede che io mi sono ho iniziato a fare questa sperimentazione da solo poi quando ho cominciato a vedere che con le prime casse musicali messe negli angoli dei filari c'era una vita migliore un metabolismo accelerato c'erano dei processi fisiologici migliorativi allora a questo punto ho cominciato a collaborare con l'università di Firenze con il grande professor Mancuso che è un'autorità nel campo della cosiddetta neurologia vegetale capite l'intelligenza delle piante allora abbiamo fatto un capitolato di ricerca sia con il professor Mancuso e poi anche col professor Lucchi dell'università di Pisa entomologo morale nel giro di pochi anni noi abbiamo capito che le frequenze sonore così come la luce riescono a dare una una vita un metabolismo migliorativo a tutta la pianta alla fine la conclusione delle ricerche è che si usa chimica dosage zero cosa che non esiste in nessun altro vigneto al mondo c'è stato un boom mediatico qui sono venute tutte le televisioni del mondo a un certo punto negli stati uniti d'america questa è la grandezza dell'america un personaggio Amar Bose uno dei più grandi intelletti dell'audio e mi ha aiutato io qui da questo posto da questa Toscana da queste istituzioni dall'Italia all'Europa non ho ricevuto un euro il professor Bose è venuto qui attraverso un suo senior advisor io sono qui solo per darle questa lettera apro questa lettera e c'è scritto Carlo non ti conosco ma io sono induista e come tutti gli induisti io credo nella vibrazione universale la musica è la più bella vibrazione che noi possiamo cogliere dalla vibrazione universale ma noi umani non dobbiamo essere presuntuosi perché non è fatta solo per noi ma per tutto il mondo biologico comprese le povere piante che rappresentano il 98 per cento del mondo biologico in questa terra I follow you ti aiuterò questa è stata per me una cosa meravigliosa io ho cominciato a collaborare con questo personaggio e questo personaggio mi ha dotato di un centinaio di diffusori dell'ultima generazione di questa grande compagnia e nello stesso tempo ha aiutato anche l'università di Pisa di Firenze allora questo è il più grande dono me l'aspetto io una cosa del genere da questo territorio direi proprio di no ma me lo auguro io sono Federico Ricci agronomenologo del Paraliso di Frassina qui a Montalcino azienda biologica dove stiamo sperimentando dal 2006 l'effetto delle onde sonore sulla vite una cosa molto particolare siamo seguite dall'università di Firenze e di Pisa l'università di Firenze studia gli effetti delle onde sonore sulla vite quella di Pisa invece gli effetti del suono sugli insetti che volano in vigna bene i risultati sono sono fenomenali per quanto riguarda la pianta ci siamo resi conto che le onde sonore la musica classica quindi sono le basse frequenze sono le vibrazioni quelle che hanno effetto stimolano all'interno della pianta un maggior scambio di onipotassio e calcio fra cellule e cellula e una maggior produzione di fitoalessine quindi questi anticorpi fra virgolette della pianta quindi la pianta è più resistente alle malattie in generale noi che siamo un'azienda biologica possiamo ridurre di più del 50 per cento le dosi di rame d'esolfo che diamo in vigna per i trattamenti e la pianta comunque è stimolata anche a lavorare di più e quindi a produrre di più e ad anticipare l'epoca di maturazione che è molto importante perché quindi andiamo a fare una vendemmia in periodi più tranquilli senza il rischio di piogge di muffe di umidità questi sono due effetti molto molto importanti perché ridurre la quantità di rame di zolfo in vigna vuol dire anche avere un terreno più sano falde acquifere più sane ma anche poi un grappolo e un vino più sano questo inevitabile gli studi dell'università di pisa invece si concentrano appunto come dicevo prima sugli insetti che volano in vigna ci siamo resi conto mettendo diverse trappole nei vigneti sia nelle piante nel nei punti dove c'è il suono e dove non c'è il suono che gli insetti utili rimangono in vigna sono quelli importanti per l'impollinazione di tutte di tutte le piante quelli che se ne vanno via sono insetti dannosi in particolar modo le scicaline scicaline sono quelle che sono causa di una malattia molto importante che la flavescenza dorata bene l'effetto come mai la musica allontana questi insetti perché questi insetti comunicano fra maschio e femmina con vibrazioni del proprio corpo sulla pianta bene le le onde sonore messe dalle nostre e dalle nostre casse fanno 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 sì che mandino in confusione questi insetti non si riconoscono più non trova il maschio non trova più la femmina quindi se ne vanno in posti più tranquilli per comunicare e quindi abbiamo la possibilità di non trattare verso questa malattia e quindi anche in questo caso si hanno grappoli più sani e un vino sicuramente più sano più naturale io mi auguro solo che questa metodologia è stata premiata anche della nazioni unite nel 2011 che ci ha inserito nel bright green brook tra i brook dei cento progetti più ecosostenibili del mondo questa metodologia possa partire orgogliosamente dalla toscana da montalcino per investire anche tutti gli altri diciamo posti dove c'è agricoltura e dove c'è viticoltura per arrivare uno scopo uccidere o gm uccidere chimica se le frequenze possono fare quello che fa la chimica purtroppo con gli effetti devastanti che sappiamo o lo gm saremo tutti felici e questo è un progetto da seguire io mi auguro che qualcuno possa avere il buon senso oltre che la sensibilità di andare più a fondo al problema che abbiamo creato grazie